Fatture false e crediti d'imposta fittizi. Così una ditta di popoli nel settore dell'edilizia riusciva a evadere il fisco e quanto appurato dalla Guardia di Finanza che ha sequestrato oggi ulteriori beni per un valore di 275 mila euro che vanno ad aggiungersi ai circa 2 milioni e mezzo già sequestrati nel 2019, anno d'inizio delle indagini. Praticamente avvalendosi di altre società fittizie, nel senso che si creavano queste società che emettevano delle fatture false e poi scomparivano tra virgolette queste società, quindi passavano le cariche a dei soggetti terzi, addirittura extracomunicati e si perdeva praticamente tutta la compagine societaria. Questo ha permesso alla società che noi abbiamo indagata di compensare crediti inesistenti di IVA per oltre 800 mila euro a fronte di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 6 milioni di euro. Cinque denunciati per emissione e utilizzo di fatture inesistenti per nove realtà aziendali. A completamento delle indagini la misura restrittiva dispone il sequestro di oltre 3 milioni di euro. Questo è il bilancio dell'operazione Svincolo Fantasma. Come mai Svincolo Fantasma? Ecco perché siccome la società fa anche lavori autostradali, quindi il nome Svincolo Fantasma perché poi di fatto queste società che avrebbero dovuto fare lavori effettivamente non c'erano.